Sono sempre più frequenti, anche in provincia di Lucca, i casi di violenza verso le donne. A destare scalpore è che il molestatore è nella maggioranza dei casi un parente o un compagno. Ha dell'incredibile la storia che ha portato la squadra mobile di Lucca a denunciare un artigiano edile di 47 anni, residente a San Donato. L'uomo, separato dalla prima moglie, aveva conosciuto una giovane lucchese di 18 anni più giovane. Anche la separata e con un bimbo avuto dalla prima relazione. Per circa due anni il rapporto 3-2 aveva funzionato, ma a causa del carattere progressivamente sempre più possessivo, la giovane decideva di troncare la relazione. Il rapporto diventa da subito teso, con l'uomo che non perde bene la separazione. Non ottenendo nulla con le buone ed accecato dalla gelosia, arriva a rubarle e può incendiarle la macchina, una berlina di media cilindrata che l'aveva regalata all'inizio del loro rapporto, trovata completamente distrutta a Gagnano. Le sottrae anche altri beni per evitare che li porti via quando la donna decide di andare ad abitare altrove. Il passo dall'amore all'odio è rapidissimo e non contento di quanto già fatto, sporge denuncia a suo carico per il furto di alcuni elettrodomestici e per minacce percosse, al fine di indurla a tornare con lui la pedina e la molesta giornalmente. Un quadro della vicenda che solo oggi è però chiaro, perché viste le numerose controdenunce succedutesi nei mesi, ci sono volute le indagini della squadra mobile di Lucca per consentire di capire chi dei due fosse il molestato e chi il molestatore. Al termine dei complessi accertamenti, l'uomo è stato denunciato per furto, incendio, calugna ed atti persecutori.